Un inverno fatto di eventi sempre puntuali, tutti i mercoledì parliamo dei corsi di cultura, come è andata? Direi che è andato proprio bene, nel senso che abbiamo avuto un'ottima affluenza, abbiamo anche superato perfino i 100 persone, anche perché l'interesse è su tanti argomenti che erano alettanti, perché si è parlato, l'architetto Garbarino, del santuario delle Grazie, si è parlato della sedia di Chiavari, si è parlato di tutte quelle emergenze, tipo dagli officieux alle suette delle suore di clausura di Varese Ligure. Tutta cultura genovese. Tutta cultura, tutti piccoli spicchi di cultura che hanno la loro importanza, tutto un bagaglio di notizie, di patrimonio, che fa parte... Questo è il merito ovviamente dell'Associazione Ocastello, che però non si riposa neanche d'estate, perché presenta Notte sotto le stelle, così come l'anno scorso, tre appuntamenti. Sì, tre appuntamenti, è il terzo anno, anche qui il filone è sempre il genovese, nel senso che cominciamo con un rap con Mike di Campomorone, che fa un rap tipicamente genovese, anche il titolo ve lo leggo un attimo, dai brichi omà qua quei decantà, poi ve lo traduzerete voi. Poi una cosa interessante, domenica 21 abbiamo la partecipazione di un chitarrista che ha premuto il premio, perché di Rapallo, il premio Turio Coppello per l'arte, che Enrico Testa, che insieme a Valeria Bruzzone farà un revival di Natalino Otto, tutti penseranno a Natalino Otto, effettivamente è già famoso negli anni 30, però è genovese, nasce da Renzano e ha fatto anche tante belle canzoni genovesi. E quindi il terzo appuntamento? Il terzo appuntamento, chiudiamo la grande perché qui sarà un'apoteosi dei nostri cantautori genovesi, abbiamo appunto Mistretta e Mauro Culotta, che so che è un nome abbastanza importante, e qui sarà proprio un viaggio nella musica dei nostri cantautori, che direi che sono l'eccellenza a livello nazionale. E poi si prende la rincorsa per il prossimo anno? E poi si prende la rincorsa, ma nel frattempo ci sarà il premio delle illustrazioni, sia di fotografia che per i licei artistici, il premio delle tesi, il confuoco, insomma non restiamo senza far niente. L'architetto Osvaldo Garberino è stato uno dei protagonisti del corso di cultura genovese. Che cos'è che è importante nel suo argomento che passi alle generazioni future, ma che venga poi anche conservato? La cosa più importante è che dobbiamo sapere osservare l'oggi, osservarlo attentamente, avere la capacità di capire quali sono gli elementi dell'oggi che vengono dal passato. Perché noi non ci rendiamo conto, però in realtà noi siamo un prodotto come il DNA umano, siamo in realtà il prodotto storico del passato. Quindi noi per capire il presente, perché è una frase abusata, mi rendo conto, però per capire il presente e anche per programmare, pensare il futuro, abbiamo bisogno innanzitutto di capire cosa viene dal passato di quello che stiamo vivendo noi. E quello che quindi è un qualcosa che noi riteniamo un valore irrinunciabile da mantenere, come ogni bisaccia di uno che cammina, che ha bisogno di togliersi quello che non gli serve più, ma di conservare quello che ritiene che sia assolutamente importante. Questo è un grande merito del castello? Il castello fa la sua parte, perché il castello ha soprattutto il fatto, il merito di aver scelto come obiettivo, come mission culturale, quella del mantenimento della cultura del luogo, che oggi effettivamente è un dato molto importante, perché noi finiamo per perdere la cognizione del contesto e quindi della nostra identità poi alla fin fine.